Nonostante la crisi del 2008 abbia letteralmente raso al suolo il suo settore bancario, l'Islanda è costretta a fare ancora i conti con il suo passato. Una corte nella capitale Reykjavik ha condannato a 12 mesi di carcere, di cui tre già scontati, Sigurion Arnason, l'ex capo di quella che era stata prima del fallimento, la seconda banca del paese. Pene simili sono state inflitte ad altri due ex dirigenti, l'accusa per tutti è la stessa, a giottaggio. Nello specifico, i tre banchieri avrebbero manipolato l'andamento del titolo della banca prestando fondi ai investitori, a condizione che questi ultimi comprassero azioni.